Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte prima. Fantin. Libro settimo. L'affare Jean-Mathieu. Capitoli sesto e settimo. Capitolo sesto. Suor Samplice messa alla prova. Intanto, in quello stesso momento, Fantin era piena di gioia. Aveva passato una pessima notte, tosse spaventosa, febbre sempre più alta. Aveva fatto dei sogni. Al mattino, durante la visita del medico, delirava. Egli, con aria allarmata, aveva raccomandato che lo avvertissero appena fosse tornato il signor Madeleine. Per tutta la mattinata, ella fu triste. Parlò poco e fece pieghe alle lenzuola, mormorando a bassa voce dei calcoli, che avevano l'aria di essere calcoli di distanze. Gli occhi erano incavati e fissi. Sembravano quasi spenti. Poi, a tratti, si ravvivavano e risplendevano come stelle. «Sembra che, all'approssimarsi di una certa ora buia, il chiarore del cielo pervada coloro che vengono abbandonati dal chiarore della terra». Ogni volta che Suor Samplice le chiedeva come stava, ella rispondeva invariabilmente «Bene, vorrei vedere il signor Madeleine». Qualche mese prima, nel momento in cui Fantin perdeva il suo ultimo pudore, la sua ultima vergogna e la sua ultima gioia, era l'ombra di se stessa. Ora ne era lo spettro. Il male fisico aveva completato l'opera del male morale. Quella creatura di venticinque anni aveva la fronte rugosa, le gote flaccide, le narici serrate, i denti scalzati, il colorito plumbeo, il collo ossuto, le scapole sporgenti, le membra gracili, la pelle terrea, e i suoi capelli biondi erano misti a ciocche grigie. «Aimè, come la malattia improvvisa la vecchiaia». A mezzogiorno il medico tornò, fece qualche prescrizione, si informò se il signor sindaco si fosse presentato in infermeria e scosse la testa. Madeleine veniva abitualmente alle tre a trovare la malata, poiché la puntualità era bontà, egli era puntuale. Verso le due e mezza, Fantin cominciò ad agitarsi. Nello spazio di venti minuti chiese più di dieci volte al religiosa «Sorella, che ora è?». Suonarono le tre. Al terzo colpo Fantin si rizzò a sedere, lei, che di solito poteva appena muoversi nel letto. «Congiunse in una sorta di stretta convulsa le mani scarnite e gialle, e la religiosa intese uscirle dal petto uno di quei sospiri profondi, che sembrano alleviare un'oppressione». «Poi Fantin si voltò e guardò la porta. Nessuno entrò. La porta non si aprì. Ella rimase così per un quarto d'ora, l'occhio fisso sulla porta, immobile, come trattenendo il fiato. La suora non osava parlarle. Il campanile batte le tre e un quarto. Fantin si lasciò ricadere sul cuscino, non disse nulla, e si rimise a far pieghe sul lenzuolo. La mezz'ora passò, poi l'ora. Nessuno venne. Ogni volta che il campanile rintoccava, Fantin si drizzava e guardava verso la porta, poi ricadeva. Il suo pensiero era evidente, ma essa non pronunciava alcun nome, non si lamentava, non accusava. Tossiva soltanto in maniera lugubre. Si sarebbe detto che qualcosa di oscuro calasse su di lei. Era livida e aveva le labbra blu. Sorrideva a tratti. Suonarono le cinque. Allora la suora le intese dire a voce bassissima e con dolcezza, «Ma poiché me ne vado domani, sbaglia a non venire oggi». La stessa suor Sampliss era sorpresa del ritardo del signor Madeleine. Intanto Fantin guardava il cielo dal suo letto. Sembrava cercasse di ricordarsi qualcosa. D'un tratto si mise a cantare con voce flebile come un soffio. La religiosa ascoltò. Ecco cosa cantava Fantin. Compreremo cose bellissime passeggiando in periferia. I fiordalisi sono azzurri, le rose sono rosa. I fiordalisi sono azzurri. Vi amo, amori miei. La Vergine Maria, vicino alla mia stufa, ieri è venuta col manto ricamato e mi ha detto, «Ecco, nascosto sotto il mio velo, il piccino che un giorno mi hai chiesto. Corri in città, prendi della tela, compra del filo, compra un ditale. Compreremo cose bellissime passeggiando in periferia. Buona Vergine Santa, vicino alla stufa ho messo una culla ad orna di nastri. Se Dio mi desse la sua stella più bella, io preferisco il bambino che mi hai dato tu. «Signora, cosa faccio di questa tela?» Fanne un corredo per il mio neonato. I fiordalisi sono azzurri, le rose sono rosa. I fiordalisi sono azzurri. Vi amo, amori miei. Lava la tela. Dove? Nel fiume. Fanne, senza guastarla né sporcarla, una bella gonna con il suo corsetto che voglio ricamare e riempire di fiori. «Il bambino non c'è più, signora, che ne faccio?» «Fanne un lenzuolo per seppellirmi. Compreremo cose bellissime passeggiando in periferia. I fiordalisi sono blu, le rose sono rosa. I fiordalisi sono azzurri. Vi amo, amori miei». Questa canzone era una vecchia ninna nanna con cui un tempo addormentava la sua piccola cosette e che non le veniva in mente da cinque anni, da quando non aveva più la piccola. La cantava con voce così triste e su un'aria così dolce che c'era da far piangere anche una religiosa. La suora, abituata alle cose austere, si sentiva spuntare le lacrime. Il campanile batte le sei. Fantin non parve sentire, sembrava non fare più attenzione ad alcunché. Suor Samplisse mandò una ragazza ad informarsi dalla portinaia della fabbrica se il signor sindaco era rientrato e se non potesse venire al più presto in infermeria. La ragazza tornò qualche minuto dopo. Fantin era sempre immobile e sembrava immersa nei propri pensieri. La domestica raccontò a voce bassissima a Suor Samplisse che il signor sindaco era partito quella mattina stessa prima delle sei con un piccolo tilburi tirato da un cavallo bianco col freddo che faceva, che era partito solo senza neanche un cocchiere che non si sapeva che strada avesse preso, che qualcuno diceva di averlo visto svoltare per la strada di Agha, che altri assicuravano di averlo incontrato sulla via di Parigi, che partendo era stato come al solito gentilissimo e che aveva solo detto alla portinaia che non lo aspettasse quella notte. Mentre le due donne, la schiena rivolta al letto di Fantin, bisbigliavano, la suora interrogando, la serva congetturando, Fantin, con quella vivacità febbrile propria di certe malattie organiche che unisce i movimenti liberi della salute alla spaventosa magrezza della morte, si era messa in ginocchio sul letto, i pugni contratti appoggiati al capezzale e con la testa infilata nel varco fra le tende, ascoltava. «D'un tratto!» esclamò. «State parlando del signor Madeleine! Perché parlate a bassa voce? Che cosa fa? Perché non viene?» La sua voce era così brusca e rauca che le due donne credettero di sentire una voce maschile. Si voltarono spaventate. «Rispondete dunque!» gridò Fantin. La domestica balbettò. «La portinaia mi ha detto che non potrà venire oggi!» «Figlia mia!» disse la suora. «State tranquilla! Coricatevi!» Fantin, senza cambiare atteggiamento, riprese a voce alta con un accento insieme imperioso e lacerante. «Non potrà venire! E perché? Voi sapete la ragione! Ve la bisbigliavate fra voi! La voglio sapere!» La serva si affrettò a dire all'orecchio della suora. «Rispondete che è occupato al consiglio municipale!» Suor Samplis arrossì leggermente. Era una menzogna quella che la serva le proponeva. D'altro canto, le sembrava che dire la verità alla malata avrebbe significato infliggerle un colpo terribile. E questo sarebbe stato grave nello stato in cui era Fantin. Quel rossore durò poco. La suora fissò su Fantin i suoi occhi calmi e tristi e disse «Il signor sindaco è partito!» Fantin si rizzò e sedette sui talloni. I suoi occhi scintillarono. Una gioia inaudita si diffuse su quella fisionomia dolorosa. «Partito!» esclamò. «È andato a prendere Cosette!» Poi tese le mani verso il cielo e tutto il suo volto divenne ineffabile. Le sue labbra si muovevano, pregava sottovoce. Quando la preghiera fu terminata «Sorella!» disse «Ora mi corico! Farò tutto ciò che vorrete! Sono stata cattiva! Vi chiedo scusa di aver gridato! È male gridare! Lo so, sorella! Ma vedete, sono contenta! Il buon Dio è buono! Il signor Madeleine è buono! Pensate che è andato a prendere la mia piccola Cosette a Montfermei!» Si coricò di nuovo. Aiutò la religiosa a sistemare il cuscino e baciò una piccola croce d'argento che portava al collo e che le aveva donato suor Sanplisse. «Figliola!» disse la suora «Ora cercate di riposare e non parlate più!» Fantin prese fra le mani madide la mano della suora che soffriva sentendo quel sudore. «È partito stamattina per andare a Parigi! Del resto non c'è neanche bisogno di passare per Parigi!» Montfermei è un po' sulla sinistra venendo. «Vi ricordate cosa mi diceva ieri quando gli parlavo di Cosette? Presto! Presto!» «È una sorpresa che mi vuol fare!» «Sapete?» «Mi aveva fatto firmare una lettera per riprenderla ai Thénardier!» «Non potranno dire niente, vero?» «Mi renderanno Cosette!» «Perché sono stati pagati!» «Le autorità non ammetterebbero che si possa trattenere un bambino quando si è pagati!» «Sorella, non fatemi segno che non devo parlare!» «Sono terribilmente felice!» «Sto benissimo!» «Non ho più male!» «Rivedrò Cosette!» «Ho anche fame!» «Sono quasi cinque anni che non la vedo!» «Voi non potete sapere come ci si affeziona i bambini!» «E poi sarà così carina!» «La vedrete!» «Sapeste!» «Ha certi ditini rosa!» «Adesso avrà delle bellissime mani!» «A un anno aveva delle manine ridicole!» «Così!» «Deve essere grande adesso!» «Ha sette anni!» «È una signorina!» «Io la chiamo Cosette!» «Ma si chiama Euphrasie!» «Sapete, stamattina guardavo la polvere che c'era sul caminetto e mi è venuto il pensiero che presto avrei rivisto Cosette!» «Dio mio!» «Come si sbaglia a stare tanti anni senza rivedere i propri figli!» «Si dovrebbe riflettere che la vita non è eterna!» «Oh!» «Com'è buono ad essere partito il signor sindaco!» «È vero che fa un freddo tremendo!» «Avrà il suo mantello almeno!» «Sarà qui domani, vero?» «Domani sarà festa!» «Domani, sorella, ricordatemi di mettere la mia cuffietta col pizzo!» «Monfermei è un paese!» «Quella strada io l'ho fatta a piedi!» «Per me era tanto lontano!» «Ma le diligenze corrono così veloci!» «Sarà qui domani con Cosette!» «Quanto c'è da qui a Monfermei?» la suora che non aveva alcuna idea delle distanze rispose «Oh!» «Credo bene che potrà essere qui domani!» «Domani!» «Domani!» disse Fantin «Domani vedrò Cosette!» «Vedete, buona suora del buon Dio!» «Io non sono più malata!» «Io sono pazza!» «Potrei ballare se volessi!» «Chi l'avesse vista un quarto d'ora prima non avrebbe capito nulla!» la suora era tutta rosa parlava con voce vivace e naturale tutto il suo volto sorrideva a tratti rideva parlando tra sé a bassa voce «Gioia di madre è quasi gioia di fanciullo!» «Ebbene!» disse la suora «Eccovi felice!» «Obeditemi!» «Non parlate più!» Fantin posò la testa sul guanciale e disse a mezza voce «Sì, coricati!» «Sì, saggia!» «Perché avrai la tua bambina!» «Avete ragione, suor Sampliss!» «Tutti quelli che sono qui hanno ragione!» e poi senza muoversi senza spostare la testa si mise a guardare dappertutto con gli occhi spalancati e un'aria gioiosa e non disse più nulla la suora richiuse le tende sperando che si assopisse tra le sette e le otto venne il medico non sentendo alcun rumore credette che Fantin dormisse entrò pian piano e si avvicinò al letto in punta di piedi socchiuse le tende e alla luce della lampada da notte vide i grandi occhi calmi di Fantin che lo guardavano e la gli disse «Signore è vero che la lascerete dormire accanto a me in un lettino?» il medico credette che delirasse e la aggiunse «Guardate c'è giusto il posto!» il medico prese da parte Suor Samplice che gli spiegò la cosa che il signor Madeleine era assente per un giorno o due e che nel dubbio non aveva ritenuto di dover disingannare la malata che credeva il sindaco partito per Montfermei che era possibile insomma che avesse indovinato il medico approvò si riaccostò al letto di Fantin che riprese «E che vedete la mattina quando si sveglierà io dirò buongiorno alla mia gattina e la notte io che non dormo la sentirò dormire il suo respiro così dolce mi farà bene «Datemi la mano» disse il medico ella tese il braccio ed esclamò ridendo «Ah già è vero voi non lo sapete io sono guarita cos'è t'arriva domani» il medico fu sorpreso ella stava meglio l'oppressione era diminuita il polso aveva ripreso forza una sorta di vita sopravvenuta di colpo rianimava quel povero a essere esaurito «Signor dottore» riprese lei «La suora vi ha detto che il signor sindaco è andato a prendere la mia piccina» il medico raccomandò il silenzio e di evitare ogni emozione prescrisse un infuso di china pura e nel caso che la febbre si ripresentasse nella notte una pozione calmante andandosene disse alla suora «Sta meglio se la fortuna volesse che in effetti il signor sindaco arrivi domani con la bambina chissà ci sono crisi così stupefacenti è capitato che grandi gioie provocassero di colpo la guarigione so che questa è una malattia organica e molto avanzata ma è un tal mistero tutto questo forse la salveremmo» Capitolo settimo il viaggiatore arrivato prende le sue precauzioni per ripartire erano quasi le otto di sera quando il barroccio che abbiamo lasciato per strada entrò dalla porta carraia dell'hotel della poste di Arra l'uomo che abbiamo seguito fino a questo momento ne scese rispose con aria distratta alle sollecitazioni dell'agente dell'albergo rimandò indietro il cavallo di rinforzo e condusse lui stesso il cavallino bianco in scuderia poi spinse la porta di una sala da biliardo che si trovava al pian terreno si sedette e appoggiò i gomiti su un tavolo ci aveva messo quattordici ore per quel tragitto che contava di fare in sei si rendeva giustizia dicendo che non era colpa sua ma in fondo non era contrariato la padrona dell'albergo entrò il signore dorme qui il signore vuole mangiare egli scosse la testa in segno di diniego il garzone di scuderia dice che il cavallo del signore è molto stanco qui ruppe il silenzio il cavallo non potrà ripartire domattina oh signore gli ci vogliono almeno due giorni di riposo egli chiese è qui l'ufficio postale sì signore l'albergatrice lo condusse all'ufficio egli mostrò il suo passaporto e si informò se vi fosse il mezzo di tornare quella notte stessa a Montreux-sur-Mer con la diligenza postale il posto accanto al corriere era appunto libero egli lo prenotò e lo pagò signore disse l'ufficiale postale non mancate di trovarvi qui per partire all'una precisa del mattino fatto questo uscì dall'albergo e vagò per la città non conosceva Ara le strade erano buie e andava a caso tuttavia sembrava ostinarsi a non chiedere informazioni ai passanti varcò il fiumicello Cranchon e si trovò in un dedalo di vicoli in cui si perse un borghese camminava con un lanternone dopo qualche esitazione decise di rivolgersi a quel borghese non senza aver prima guardato davanti e dietro di sé come se temesse che qualcuno potesse ascoltare la domanda che stava per fare signore disse il palazzo di giustizia per cortesia non siete di qui vero signore ebbene seguitemi vado dalle parti del palazzo di giustizia cioè dalle parti del palazzo della prefettura perché il palazzo di giustizia è in restauro e provvisoriamente i tribunali tengono udienza alla prefettura ed è lì chiese lui che siede la corte d'assise certo signore vedete quella che oggi è la prefettura era il vescovado prima della rivoluzione il signor de conze che era vescovo nell'ottantadue vi fece costruire un gran salone è in quel salone che si giudica cammin facendo il borghese gli disse se è un processo che il signore vuol vedere è un po' tardi di solito le sedute finiscono alle sei intanto arrivando sulla piazza principale il borghese gli mostrò quattro lunghe finestre illuminate sulla facciata di un vasto edificio tenebroso in fede mia signore arrivate in tempo siete fortunato vedete quelle quattro finestre è la corte d'assise c'è luce dunque non hanno finito l'affare sarà stato tirato per le lunghe e si fa un'udienza serale vi interessate a questo affare è un processo criminale siete un testimone egli rispose non vengo per nessun processo devo soltanto parlare ad un avvocato è diverso disse il borghese guardate ecco la porta dove c'è la sentinella non avete che da salire lo scalone egli seguì le indicazioni del borghese e qualche minuto dopo si trovava in una sala dove c'era molta gente e gruppi misti di avvocati e giudici bisbigliavano qua e là è sempre una cosa che stringe il cuore vedere questi crocchi di uomini vestiti di nero che mormorano tra loro sottovoce sulla soglia dei tribunali è raro che la carità e la pietà escano da tutte quelle parole ciò che ne esce per lo più sono condanne pronunciate in anticipo tutti quei gruppi paiono all'osservatore che passa e che pensa altrettanti cupi alveari in cui spiriti ronzanti costruiscano in comune ogni sorta di edifici tenebrosi quella sala spaziosa e illuminata da una sola lampada era un'antica sala del vescovado e serviva da sala d'attesa una porta a due battenti chiusa in quel momento la separava dal salone dove sedeva la corte d'assise l'oscurità era tale che egli non temette di rivolgersi al primo avvocato che incontrò signore disse a che punto sono finito disse l'avvocato finito quella parola fu ripetuta con tale accento che l'avvocato si voltò scusate signore siete forse un parente no non conosco nessuno qui e c'è stata una condanna ma certo non era possibile altrimenti ai lavori forzati a vita e gli riprese con una voce talmente debole che si sentiva appena l'identità è dunque stata constatata quale identità rispose l'avvocato non c'era nessuna identità da constatare l'affare era semplice quella donna aveva ucciso suo figlio l'infanticidio è stato provato la giuria ha escluso la premeditazione l'hanno condannata all'ergastolo è dunque una donna ma certo la limosan ma di che parlate voi dunque di nulla ma se è finito come mai la sala è ancora illuminata è per l'altro processo che è cominciato un paio d'ore fa quale altro processo oh è chiaro anche questo è una specie di mendicante un recidivo un galeotto che ha rubato non ricordo il suo nome uno che ha una faccia da bandito solo guardandolo in faccia lo spedirei al bagno penale signore egli chiese è possibile entrare in sala non credo veramente c'è molta folla tuttavia l'udienza è sospesa c'è gente che è uscita e alla ripresa dell'udienza potreste provare da dove si entra da quella gran porta l'avvocato lo lasciò in quell'istante egli aveva provato quasi nello stesso tempo quasi mescolate tutte le emozioni possibili le parole di quell'indifferente gli avevano volta per volta trapassato il cuore come aghi di ghiaccio e come lame di fuoco quando vide che nulla era compiuto respirò ma non avrebbe potuto dire se quel sollievo era di gioia o di dolore si avvicinò a diversi gruppi e ascoltò ciò che dicevano poiché il ruolo della sessione era sovraccarico il presidente aveva fissato per quello stesso giorno due processi semplici e brevi avevano cominciato con l'infanticidio e ora erano al forzato al recidivo al cavallo di ritorno quell'uomo aveva rubato delle mele ma questo non era del tutto provato ciò che era provato è che era già stato al bagno penale a Tolone e questo rendeva le sue prospettive cattive del resto l'interrogatorio dell'uomo era terminato e così le deposizioni dei testimoni ma c'erano ancora la ringa dell'avvocato difensore e la requisitoria del pubblico ministero non sarebbe finita prima di mezzanotte l'uomo sarebbe stato probabilmente condannato l'avvocato generale era abilissimo e non mancava mai i suoi accusati era un giovanotto di spirito che scriveva versi un usciere stava ritto accanto alla porta che comunicava con la sala delle assise e gli chiese a quell'usciere signore quando si aprirà questa porta non si aprirà affatto disse l'usciere come? non si aprirà alla ripresa dell'udienza l'udienza non è stata sospesa l'udienza verrà ripresa rispose l'usciere ma la porta non si aprirà perché? perché la sala è piena come non c'è neanche un posto neanche uno la porta è chiusa nessuno può più entrare l'usciere aggiunse dopo un istante di silenzio ci sono ancora due o tre posti dietro il signor presidente ma il signor presidente vi ammette solo i pubblici funzionari detto questo l'usciere gli voltò la schiena egli si ritirò a testa bassa attraversò l'anticamera e ridiscese lo scalone lentamente come esitando ad ogni gradino è probabile che si consultasse con se stesso la violenta battaglia che si svolgeva in lui dal giorno prima non era finita e a ogni istante egli ne attraversava qualche nuova peripezia arrivato sul pianerottolo si addossò al corrimano e incrociò le braccia d'un tratto aprì la redingotte prese il portafogli ne trasse una matita lacerò un foglio e vi scrisse rapidamente alla luce del riverbero questa riga monsieur Madeleine sindaco di Montreux-sur-Mer poi risalì la scala a grandi passi fendette la folla marciò diritto sull'usciere gli consegnò il foglio e gli disse con autorità portatelo al signor presidente l'usciere prese il foglio gli diede un'occhiata e obbedì